L'amministrazione Melucci, il sindaco Melucci e il resto del centrosinistra e del Partito Democratico che sosteneva Rinaldo Melucci si sono tanto vantati di aver promosso, di promuovere il turismo, si vantano delle navi da crociera, quelle poche che vengono e guardate qui, mi trovo nella città vecchia, mi trovo a Piazza Fontana, la meravigliosa struttura con la torre cosiddetta, la torre dell'orologio e guardate un po' un punto, un infopoint turistico, Tourist Information Center da una vita chiuso, una vergogna, una vergogna, così dobbiamo fare turismo a Taranto? Ma chiedo a Melucci, era così difficile mettere del personale, anche dei giovani, delle cooperative, ma cercare di rendere fruibile una struttura, guardate c'è una bella insegna che cita, che ripropone, riporta, ripete le parole di Diego Marturano da orologio da Chiazza perché qui come vedete, lo vedremo meglio dalle immagini, c'è proprio l'orologio e guardate qui, tutto chiuso, tutto chiuso, le immagini parlano chiare, è qualcosa di osceno, di scandaloso, cioè il turista arriva, la nave da crociera scende, uno vede piazza Fontana, guarda la banchina, la faccio al mare, il primo punto di arrivo, il primo punto in cui ci si interfaccia dopo il ponte di Pietra è questo e trova tutto chiuso, da quanto tempo è tutto chiuso? Da molto, sono anni che è chiuso, da quanto c'era Angelo Cassato, come si chiama, Angelo Cannata, Angelo Cannata. Ecco, il turista scende dalla nave da crociera e cosa fa? Non c'è non sa dove andare, non c'è non sa dove le vie perché non c'è neanche un'insegna dove è via Duomo, via Garibaldi e tutto il resto. Certo che questo è proprio uno schiaffo vederlo chiuso. Eh sì, anche per la città di Taranto. Ecco, vedete, allora come si fa a parlare di Taranto, capitale del mare, ecosistemata, le favole che Rinaldo Melucci, il Partito Democratico hanno raccontato. Cittadini, aprite gli occhi. Non solo il fallimento di Rinaldo Melucci, il fallimento di chi ha amministrato insieme a lui Taranto, il Partito Democratico, con tutte le forze che hanno governato con lui, Luca Contrario e Comp. Ecco come non si valorizza il turismo. Ma pensate, qui doveva esserci una insegna, una didascalia, come si fa in tutte le città italiane e si dice palazzo dell'epoca risalente a tale epoca, due note indicative, nulla, nulla. E poi non lamentiamoci quando i nostri giovani vanno via, vanno all'università, fuori e poi non tornano più. Pensate un po' come sarebbe bello se i nostri giovani, chi conosce bene le lingue, chi ha studiato beni culturali, chi ha studiato marketing, economia del turismo, come sarebbe bello tenerli qui nella nostra città, i nostri figli, valorizzando quello che abbiamo, anziché tenerlo chiuso. Il buio dell'amministrazione Melucci c'è solo da vergognarsi, io mi vergogno al posto loro, mi vergogno davvero. Questa è un'amministrazione, Melucci, il PD e le altre forze che hanno governato Taranto che hanno oscurato, calpestato la cultura e lo sviluppo del territorio. Vergognatevi! Grazie a tutti!